Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Ecco, ecco, così si vede, senza varie espelluccichezze. Contenuto esclusivo, poi ho preso anche il DLS, il Season Pass, il Season Pass, questo è il position. Ok, include anche Deathstroke, yes. Lo vado ad aprire? Va bene, prendatevi chi ha speculare, quindi... Cioè più che vuoi, io mi devo ricordare chi ha un po' a speculare, quindi farò del macello. Bene, scusatevi, andiamo via. Vedete, appunto dicevo un po' a speculare, quindi devo andare per così. Oh, c'è una negazione pure. Allora, va bene, queste riprese non sono più venute, ma va bene così, perché non vedo l'ora di giocarlo. Visco, libretto di istruzioni, vediamo quanto. Con ben una, due, scusate, uno, due, tre, pagine. È anche colorato, ci va bene, ci va di luce, poi dietro c'ho la palla, la sfera di luce. Poi ho il pacchetto Speeder Deathstroke e il pacchetto Nightfall. Bene, ok. Vado a giocare. Grazie. Grazie.